Benissimo, e dallo studio vi diciamo che sugli altri tre campi abbiamo questa situazione, Avellino 1, Lecce 0, Sampdoria 0, Como 0, Verona 0, Atalanta 2, nessuna novità in Serie C, vai pure Enrico. Discesa ancora di Mauro che riceve in questo momento la palla da Caprini, si libera di un avversario, poi cerca di puntare direttamente in avanti, la palla gli è stata bloccata, l'Inter che è sempre minacciosa recupera in questo momento ancora il pallone. Discesa di Altoberi che scavalca linea centrale del campo, attende Fann al centro, Altoberi attaccato da Bonini che gli toglie la palla ma ha commesso fallo, calcio di punizione per la formazione dell'Azur, il capitano dell'Inter è pronto per battere questo calcio di punizione, poi sopraggiungono anche gli altri Marini che riceve il pallone perché batta questo calcio di punizione, anzi vediamo che Cucchi che ricordiamo ha sostituito Bergomi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.